Dai social ai comunicati stampa arrivano le manifestazioni di solidarietà nei confronti del preside dell'ITIS di Arezzo Alessandro Artini dopo la manifestazione di fronte alla scuola di pochi giorni fa, organizzata da fronte del dissenso e ancora Italia che contestava le affermazioni del dirigente raccolte dalla nostra redazione in merito al rientro dei professori non vaccinati a scuola. La distinzione pro-vax, no-vax è una distinzione suddola che serve semplicemente a non legittimare le motivazioni non più meramente ideologiche che sono alla base di un'opinione diversa. Una vera pace è possibile soltanto quando vengono rispettati i diritti di tutte le categorie sociali cosa che finora non è stata fatta dalla politica attuale. Durante la manifestazione è apparso anche uno striscione sulle finestre dell'ITIS che diceva lasciateci studiare. Artini intanto ribadisce ancora una volta la sua posizione critica rispetto alla decisione del governo ma nulla c'entra con le posizioni vax o no-vax. Questi docenti che erano stati sospesi perché non in regola con l'obbligo vaccinale poi sono rientrati a scuola, già rientrati a scuola ma non rientrati in classe ecco forse deve essere chiarito questo passaggio anche per chi ci ascolta sono rientrati a scuola perché giustamente, io ne prendo atto, la legge li riammette a scuola però questi docenti non possono svolgere l'attività che in fondo a me pare essenziale per l'insegnamento cioè quello di stare in classe con gli alunni. Perché non possono stare in classe con gli alunni? Perché non sono in regola con l'obbligo vaccinale. Allora loro sicuramente fanno bene a esercitare questo loro diritto io non lo contesto senz'altro perché è la legge che glielo consente però questo decreto legge in quanto tale ha questo aspetto paradossale perché lo Stato italiano finisce per pagare due stipendi uno stipendio per i supplenti che tengono lezioni in classe e un altro stipendio per quei docenti cui era stato precedentemente sospeso che adesso sono rientrati in classe quindi questo per me è un aspetto davvero paradossale che avrei evitato. Intanto arriva la solidarietà anche da parte del comitato aretino di azione gli schiamazzi, si legge, hanno provocato l'impossibilità per gli studenti di seguire le lezioni Azione giudica questo tipo di manifestazioni di una gravità assoluta soprattutto se a subirne le conseguenze sono proprio gli studenti accuse che gli organizzatori rimandano al mittente e anzi chiedono con forza ancora una volta le scuse del preside aretino. La nostra è una manifestazione regolarmente comunicata e concordata con la questura il fronte degli studenti non è un fronte così unito contro di noi come si vuole rappresentare con questo striscione quando siamo arrivati molti studenti dalle finestre ci hanno applaudito ci hanno manifestato la loro solidarietà quindi anche nel mondo della scuola la nostra voce è presente anche in quell'istituto è presente tant'è che un professore ha parlato fuori diciamo sostenendo le nostre tesi e è mancato invece il preside con cui noi volevamo avere un confronto almeno che chiedesse le scuse per le parole inaccettabili con cui ha definito i sospesi che rientrano in forza di legge a scuola come delle persone che diciamo quasi alla stessa stregua di chi fa l'illusione fiscale l'evasione fiscale o commette abusi di lizi questo è inaccettabile queste persone secondo noi devono rientrare a scuola e poter insegnare questa è la base già da oggi, già da subito di fatto la pensate come il preside? No, noi non la pensiamo come il preside anzi dal preside vogliamo le scuse perché lui è rappresentante oltre che di quell'istituto di cui è la massima carica e anche all'interno è il presidente dei presidi dell'Associazione Nazionale Toscana e anche il vicepresidente a livello nazionale dell'Associazione dei Presidi quindi noi crediamo che le sue scuse sulle parole inaccettabili che ha usato debbono essere date a tutto il popolo italiano Grazie a tutti